Musica Funivia Mottarone secondo la Cassazione per Occhio Nerini erano consapevoli dei problemi dell'impianto Mela Marcia, operazione della Guardia di Finanza di Verbagna, ha scoperto sistema per frodare il fisco sequestrati beni per 1,1 milioni di euro scoperti dai carabinieri gli autori della rapina alla gioielleria Zanaboni di Arona professionisti del crimine rintracciati in Lituania Caro Bollette grido d'allarme della lavanderia milanese condiviso con industriali e federalberghi cifre più che decomplicate Dopo i due anni di stop a causa del Covid nel fine settimana ad Armino è tornata la fiera zootecnica L'equipaggio De Tommaso Turati su squadra Fabia si è giudicato il 22esimo rally del rubinetto davanti a Caffoni Minazzi Una buona serata e ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie In apertura di giornale la funivia del Mottarone perché sono state depositate nel tardo pomeriggio di oggi le motivazioni della decisione della Corte di Cassazione di annullare con rinvio l'ordinanza del riesame di Torino che disponeva agli arresti domiciliari nei confronti del gestore della funivia del Mottarone Luigi Nerini e del direttore di esercizio Enrico Perocchio La decisione della Suprema Corte, riporta l'Ansa, è motivata da una questione strettamente formale dovuta alla decisione del Tribunale di riesame di negare la possibilità alla difesa di Nerini di depositare una memoria che di fatto costituirebbe una violazione del diritto di difesa Inoltre, sempre secondo quanto riportato dall'Ansa, i giudici romani riconoscono una mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano per un verso che Enrico Perocchio, pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini del problema manifestatosi e delle necessità che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione l'impianto funzionasse con il freno di emergenza disinserito ha espressamente avvallato questo incauto, modus operandi e per l'altro che i tragici fatti del 23 maggio 2021 hanno interessato una realtà aziendale che aveva già fatto i conti in passato con il conflitto tra le esigenze della sicurezza e quelle di natura economica Ed ora la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Verbania i danni del fisco, un lavoro complesso durato due anni che ha portato al sequestro di beni per 1,1 milioni di euro Un'indagine complessa durata oltre due anni ha permesso ai finanzieri del Comando Provinciale di Verbania di scoprire un articolato sistema che aveva come scopo la frode del fisco Si è conclusa l'operazione Mela Marcia con un sequestro preventivo per equivalente di oltre un milione di euro nei confronti di quattro soggetti attivi nel settore della vendita sui marketplace e sui siti di e-commerce di cellulari ricondizionati L'indagine delle fiamme gialle ha permesso di individuare una società operante prima a Canero Riviera e poi a Novara ma di fatto condotta dalla Spalmas in Spagna che praticava dei prezzi concorrenziali su smartphone rigenerati Grazie a indagini tecniche, acquisizioni documentari, riscontri bancari e con la collaborazione degli organi collaterali maltesi i militari sono riusciti a ricostruire l'intera filiella commerciale sin dall'origine asiatica, Hong Kong, dei telefonini I cellulari venivano importati da un deposito doganale che si trovava in Germania da una società di diritto maltese gestita da due soggetti viterbesi, uno di essi stabilmente a Malta I telefonini usati, importati utilizzando il regime doganale 42 un particolare regime che consente l'immissione libera pratica senza il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea venivano venduti dalla società di diritto maltese in reverse charge che consente di addebitare l'IVA direttamente sul destinatario del bene alla società di Cannero Riviera Quest'ultima società faceva da filtro, rivendendo gli stessi stock di cellulari per un valore di quasi 6 milioni di euro a una società di Viterbo collegata alla maltese gestita dagli stessi soggetti ma cambiando nel trattamento fiscale e optando per il regime del margine un regime speciale dell'IVA previsto per il commercio di beni usati Tuttavia in questo passaggio veniva dimenticato di versare l'imposta dovuta per rendere i beni comunitari e quindi usati Questo stratagemma contabile ha permesso di eludere il versamento dell'IVA per circa 1 milione e 200 mila euro facendo abbassare artificialmente i prezzi di vendita dei telefonini Si concretizzava così una vera e propria concorrenza sreale realizzando ingiusti profitti con grave danno dell'erario a scapito degli operatori del mercato che legittimamente pagano l'IVA sui telefonini importati da fuori Unione Europea Sulla base delle prove raccolte dalla Guardia di Finanza le procure di Verbagna e di Viterbo hanno chiesto ottenuto dal GIP l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo Nei giorni scorsi i finanzieri hanno quindi effettuato la conquista di 12 beni immobili tra abitazioni e terreni 4 auto, 2 moto, disponibilità finanziaria e una società con un compendio aziendale per un totale di quasi 1 milione e 100 mila euro Scoperti dai carabinieri gli autori della rapina messa a segno quasi un anno fa i danni di una gioielleria di Arona si tratta di due lituani Sentiamo come i carabinieri hanno ricostruito la rapina a lampo del 24 novembre 2021 Sono stati arrestati in Lituania i due presunti autori della rapina la gioielleria Zana Boni di Arona del 24 novembre 2021 I malviventi avevano agito in pieno giorno in tre a volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica erano entrati nel negozio mentre uno dei tre minacciava con una pistola ai proprietari la dipendente gli altri due simultaneamente dopo aver forzato con un palanchino gli sportelli delle vetrine facevano razzia di 18 orologi di valore tra cui Rolex, IVC e Tudor e diversi preziosi in oro in esposizione per un valore di 150 mila euro tutto era durato un minuto e 28 secondi i carabinieri di Arona avevano avviato una minuziosa indagine scoprendo che la borsa con l'aria furtiva era stata poi ceduta dai rapinatori a un quarto soggetto che si era allontanato in sella alla sua bici in direzione opposta rispetto alla via di fuga dei complici I militari del nord aronesi hanno ben presto compreso di trovarsi di fronte a criminali internazionali professionisti dell'area baltica che agivano seguendo una sorta di copione ormai collaudato che era stato utilizzato anche per altri colpi in altri paesi europei un modus operandi che consentiva di agire senza quasi lasciare tracce complicando il lavoro degli investigatori lo schema era questo i malviventi arrivavano nel paese scelto qualche giorno prima anche con l'aiuto di un basista facevano un sopraluogo nella gioielleria fingendosi clienti per chiedere informazioni tornavano una seconda volta con la scusa di voler poi di fatto acquistare l'articolo e qui scattava la rapina alla fine i militari hanno individuato due soggetti di nazionalità lituana che hanno trovato in collaborazione con la divisione sirene per la cooperazione internazionale di polizia sono stati rintracciati e fermati in Lituania ed estradati in Italia nei giorni scorsi ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita l'ossolano di 67 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente di caccia sulle alture di Anzola all'Alpe Piazza Grande l'uomo si trovava in compagnia del figlio quando inavvertitamente dal suo stesso fucile è partito uno sparo che lo ha colpito al polpaccio subito sono scattati i soccorsi il cacciatore è stato portato al San Biagio di Domodossola in codice rosso SAGF e Soccorso Alpino Civile sono intervenuti sul posto per il recupero dell'arma la ricostruzione dell'accaduto e al vaglio dei carabinieri di Premosello Chiovenda Caro bollette grido d'allarme di lavanderia milanese di Verbania condiviso con Federalberghi e Unione Industriale le cifre da pagare per luce e gas sono più che decuplicate conti salati che hanno fatto chiudere in anticipo diverse strutture ricettive che potrebbero far propendere anche per stagioni invernali più brevi 170.500 euro di bolletta del gas per il mese di agosto 2022 contro i 14.500 di agosto 2019 la bolletta dell'elettricità è lievitata da 4.300 euro a 53.000 euro stessi volumi movimentati 187.000 euro di rincari subiti il grido d'allarme arriva dal lavanderia milanese di Verbania azienda con una settantina di dipendenti che si occupa di fornitura, lavaggio e stiraggio di biancheria per hotel, ristoranti, strutture sanitarie private un SOS condiviso con Federalberghi e Unione Industriale VCO Sinceramente è una situazione insostenibile ma insostenibile per la lavanderia milanese come insostenibile per il settore industriale e per il settore alberghiero una situazione simile mia nonna ha 85 anni ed è la fondatrice di questa azienda nel 1959 una situazione come questa neanche durante l'austerity degli anni 70 non l'abbiamo mai vissuta e sinceramente ci auguriamo di non doverla vivere in futuro o perlomeno di uscirne sani Intanto quest'anno riduzione degli investimenti per far fronte alla situazione provvedimento che però non può essere reiterato a lungo il rischio è tra un decennio di ritrovarsi con un'azienda vecchia dicono i titolari ma com'è la situazione nelle altre realtà locali? La situazione più generale delle aziende è sicuramente preoccupante preoccupante per il futuro perché se mi devo andare a basare solo sui dati attuali che abbiamo in mano sia previsionali sia comunque proprio quelli fattuali la situazione non è così negativa perché il ricorso della cassa integrazione che un po' la cartina torna sola è assolutamente sotto controllo allarmistiche invece sono comunque le previsioni se ci spostiamo di qualche mese perché quello che sto dicendo è legato un po' al momento X se vado al momento X più 1 sono dominato totalmente dall'aliatorietà Momento critico per gli alberghi che dopo un'ottima stagione si ritrovano con bollette che non permettono di coprire i costi da qui una difficile scelta tenere aperto oppure chiudere in modo anticipato in modo particolare molti di loro dicono ok cosa faccio pago le bollette oppure pago i dipendenti quindi di fronte a queste scelte molti di loro effettivamente chiudono in anticipo e quindi la stagione viene compromessa per questo quindi stiamo vedendo chiusure anticipate con inevitabili ricadute anche naturalmente sull'occupazione decisamente sì questo vuol dire Naspi è naturalmente anticipata per quanto riguarda i dipendenti e nel contempo per quelle che sono le strutture di montagna invece valutare se addirittura arrivare ad aprire perché se come gli altri anni purtroppo magari la stagione invernale non ci regala il nevamento quindi diventa anche difficile pensare di tenere aperto per molti mesi a questo punto magari si ridurrà ancora di più il periodo di apertura solo nel periodo magari di natalizio e in vista di qualche settimana bianca I nuovi casi di covid accertati in Piemonte sono 1480 con un tasso di positività dell'11,3% rispetto ai 13.092 tamponi diagnostici analizzati per quanto riguarda i ricoverati sono 733 nei reparti ordinari con un incremento di 24 rispetto a ieri 20 in terapia intensiva uno in più rispetto a ieri i decessi sono 4 e torniamo ora ad occuparci dei frontalieri dopo la protesta per i treni affollati lungo la tratta Domodosso la briga ora a protestare sono i colleghi lavoratori in transito lungo l'asseviario Vigezzo-Locarno e sentiamo perché i cantieri lungo la statale della valle Vigezzo penalizzano i frontalieri alle fasce orario in atto da settimane si potrebbe aggiungere a breve anche la chiusura notturna dell'arteria internazionale che collega la valle dei pittori a Locarno voci diventate sempre più concrete che ora stanno creando parecchio malumore tra i lavoratori italiani occupati nel canton Ticino l'argomento si è anche trasformato in interrogazione parlamentare a Palazzo Madama è stato il neosenatore Enrico Borghi a farsi carico dei timori dei frontalieri ossolani la chiusura per lavori di asfaltatura della statale della valle Canobina nei giorni scorsi in contemporanea con i cantieri lungo gli ultimi chilometri della strada internazionale tra Re e Ponte Ribellasca sta esasperando gli animi viaggiare lungo la 337 sta diventando sempre più difficile ammette Antonio Locatelli portavoce dei frontalieri ossolani Locatelli lancia un appello un nuovo appello alle istituzioni locali eccetto il sindaco di Re sempre sul pezzo dobbiamo riscontrare poco interessamento ai nostri problemi e lo dico a malincuore perché siamo la prima industria locale sempre in diversi si ricordino di noi solo quando si parla di ristorni la viabilità per la nostra categoria è cosa importante senza strade diventa difficile raggiungere i posti di lavoro ammette ancora Locatelli intanto a partire da oggi 17 ottobre al via anche un altro cantiere questa volta sono i lavori di messa in sicurezza dei versanti della statale 34 sulla territorio del comune di Cannobbio qui ad essere interessati sono i frontalieri che transitano lungo l'arteria internazionale che da Verbania porta Locarno i tratti interessati vanno da Cannobbio del confine di stato l'orario del cantiere dalle 8.30 alle 16.30 il traffico in questo caso sarà regolato da impianto semaforico e mobieri a Villa Dossola il sindaco Bruno Toscani ha firmato questa mattina l'ordinanza con cui impone ai residenti del suo comune di bollire l'acqua tinta dall'acquedotto comunale per scopi alimentari la decisione è stata presa dopo che gli esiti delle ultime analisi dell'ARPA del VCO hanno evidenziato la presenza di batteri in alcune zone del sistema idrico cittadino l'ordinanza rimarrà in vigore fino a quando i laboratori dell'azienda sanitaria non decreteranno il cessato pericolo per l'uso alimentare dell'acqua cittadina Il gruppo Verbagna Futura sabato mattina ha intralanciato una raccolta di firme per chiedere all'amministrazione comunale di fermare e rivedere il progetto da 8 milioni di euro per Piazza Fratelli Bandiera accanto a quella già avviata per l'ospedale Castelli Nell'occasione sono stati anche presentati i rappresentanti del gruppo nei nuovi consigli di quartiere Parte oggi la petizione lanciata da Verbagna Futura per dire no alla spesa di 8 milioni di euro per Piazza Fratelli Bandiera Hai fatto bene dire no agli 8 milioni perché non è un no al progetto ma è un sì a rivedere il progetto quello che chiede la petizione riteniamo che il progetto approvato debba essere completamente rivisto perché deve anche comprendere le piazze contigue piazza domizioni piazze mercato non si deve chiudere il pozzo di caputazione di acqua specialmente in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo che abbiamo vissuto e va a posti auto si possono realizzare con la soprelevazione dell'attuale parcheggio dove c'è il palatenda per cui la petizione è per chiedere la revisione del progetto nessuno strumentalizzi il fatto Verbagna Futura è contro il progetto Verbagna Futura è per rivedere il progetto che tenga conto dell'intera Sassonia di riqualificare l'intera Sassonia cercando di incernierare il centro storico di Intra con la Sassonia e Sant'Anna oggi avete anche presentato i vostri esponenti all'interno dei consigli di quartiere di Verbagna Sì abbiamo presentato sono nove consiglieri eletti sui 25 che con più i tre dei rioni sui 28 i quali saranno le nostre antenna sul territorio per cercare di dialogare con i cittadini perché noi consideriamo i consigli di quartieri un organismo di partecipazione che da tempo sollecitiamo che non sia la cassa di risonanza di quello che viene fatto ma che sia il momento di raccolta delle istanze del territorio di proposta all'amministrazione comunale e anche un momento di identità territoriale del singolo quartiere quindi che si ricrea il clima familiare di dialogo con fronte e di proposta dai consigli di partieri dal basso possono partire le proposte e le istanze all'amministrazione comunale questo è il ruolo che svolgeranno i nostri consiglieri senza appartenenze politiche senza schieramenti maggioranza o minoranza ma con un unico obiettivo di rappresentare le istanze del territorio e sulle dichiarazioni di Albertella è arrivata la nota del PD di Verbagna i consigli di quartiere dovrebbero essere un organo dedicato alla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa in un ambito territoriale favorendo forme di unità e collaborazione cittadina e non uno strumento di propaganda politica peraltro come ci è noto ci si avvicina sempre più alla conclusione di questa consigliatura comunale già si osservano iniziative come questa evidentemente mirate a sostenere un possibile candidato sindaco Albertella peraltro risultato sconfitto nella passata competizione elettorale dicono il capogruppo Roberto Gentina e il segretario cittadino Marco Magni questo gruppo vorrà forse sollevare critiche politiche attraverso i suoi rappresentanti nei consigli di quartiere si vorrà far pressione sui presidenti dato che nessuno dei 5 rivendica l'appartenenza al gruppo ieri presentato si vogliono trasformare le riunioni dei consigli di quartiere in serate di polemica per gridare che non va bene nulla delle scelte compiute da questa amministrazione scimmiottamento delle dinamiche politiche del consiglio comunale chiedono le voci dissonanti danno fastidio ribatte in una nota verbagna futura in consiglio comunale nelle commissioni consigliari ora nei consigli di quartiere il dissenso per loro va silenziato se ne facciano una ragione le lezioni dei nuovi consigli di quartiere è solo il primo passo nel ripristino di una dialettica sostanziale che questa amministrazione ha cercato e cerca di soffocare sulla scena politica omenese invece arriva il terzo polo Francesco Pesce e Marco Tagliaferri hanno presentato il loro progetto nel fine settimana indubbio la prima prova del 9 per la compagine siano le elezioni di primavera per il rinnovo dell'amministrazione comunale per centrare l'obiettivo si guarda i tanti delusi che non hanno partecipato alle votazioni di giugno parola d'ordine dialogo soprattutto con i tanti movimenti civici nati in città e poi spariti il terzo polo sbarca ufficialmente ad Omenia con un progetto Omenia sul serio con quali aspettative con quali ambizioni e con quali progetti il progetto prima di tutto è quello di appunto coordinare questo famoso terzo polo che è composto dal nostro gruppo di lavoro che è Omenia sul serio che è strutturato come appunto gruppo di lavoro e poi attraverso i due partiti che invece sono Italia vive azione che sono quelli che dal punto di vista nazionale sono i più rilevanti questo quest'area liberale progressista non si era mai espressa in maniera così esplicita e questo vogliamo vogliamo fare cioè cercare di aggregare persone che su progetti concreti con un atteggiamento pragmatico e di ascolto ma di ascolto davvero di tutti e poi cercare di dare il nostro contributo alla città attraverso delle soluzioni a questioni che nasceranno la questione dell'approccio pragmatico non è come dire banale rispetto all'atteggiamento sia politico che amministrativo così come l'ascolto la prima scarenza ovviamente è quella amministrativa perché Omenia nella prossima primavera ad Omenia si vota quale sarà la vostra posizione andrete con un candidato sindaco sarete la stampella di qualcuno o sì o no? è presto per dire quello che faremo è chiaro che il primo passaggio è quello di costruirci di connotarci come probabilmente ha già detto anche Francesco di costruire un nostro gruppo e un nostro programma quello che poi avverrà da qui alle elezioni sarà tutto da vedere noi partiamo per essere autonomi e per avere una nostra identità da questo partiamo poi si vedrà col tempo c'è più fibrillazione dopo questa vostra presentazione secondo te né centrodestra o né centrosinistra? ma fibrillazione secondo me dovrebbero pensarci un po' tutte e due noi cerchiamo di costruire una casa che voglia accogliere tutte quelle persone che non si rivedono in una politica così radicale come sta diventando sia a destra che a sinistra e restiamo nel Cusio ma cambiamo decisamente argomento un successo la fiera bovina che è tornata ad Armeno nel passato fine settimana dopo lo stop imposto dalla pandemia tante le persone che hanno affollato la nuova location fiera zootecnica d'Armeno numero 62 la seconda più antica del Piemonte siamo in lotta con il comune di Alba è una fiera importante ritorna dopo due anni purtroppo di pandemia che ha costretto gli organizzatori a bloccare a sospendere tutte le attività però è stato un momento di successo un momento di incontro tra gli allevatori ma anche di confronto con le pubbliche amministrazioni sindaco perché è così importante per il territorio di Armeno per il Mottarone questa manifestazione e perché è importante l'allevamento è sicuramente importante per il territorio questa manifestazione perché è un modo di far conoscere l'attività del territorio e anche per incrementare l'interesse di tutti verso una zona che è montana e che ha una serie di problematiche e quindi merito a tutti i nostri agricoltori che con passione e con molta audacia portano avanti l'attività Paolo Paolino per gli amici e per il mondo dell'attività tu hai voluto continuare una tradizione che è di famiglia vai ancora in giro con il tuo bestiame e questo abbiamo un esemplare di razza bruna originale è importante dirlo perché purtroppo dobbiamo anche raccontare che è un po' in via di estinzione questa razza tu cosa fai cosa fate voi per preservare anche per lavorare per vivere soprattutto come razza serve perché io non gli do niente e vivono solamente con il pascolo e l'erba esclusivamente del motarone ci si dimentica qualche volta in buona fede assolutamente che dietro queste attività dietro la fiera per esempio ci sono delle attività economiche qui ci sono decine di famiglie che vivono anche di allevamento e di agricoltura ecco come si può fare cosa si può fare per sostenere queste attività si come ricorda lei è necessario dare una mano a queste aziende perché sono innanzitutto fanno innanzitutto economia e quindi fanno girare il territorio anche dal punto di vista turistico ma è importante che abbiano il presidio sul territorio io non posso provare a immaginare se non ci fossero loro anche con gli animali da portare al pascolo e se ci fosse questo territorio qua se non fosse abbandonato purtroppo poi abbiamo gli agricoltori che devono lavorare contro la siccità di quest'anno abbiamo avuto il problema del covid abbiamo avuto l'alzamento dei prezzi dovuti alla guerra abbiamo il problema della fauna selvatica io sono presidente di Coldiretti dal 2016 e non conto più le numerose battaglie che abbiamo fatto e che continuiamo a fare per dare una mano agli agricoltori in risposta alla problematica della fauna selvatica perché è veramente importante la pagina sportiva con il rally del rubinetto ha vinto il duo De Tommasi Turati secondo posto per il team Caffoni Minazzi Damiano De Tommaso e Mauro Turati Varesino il pilota Comasco il navigatore a bordo della loro Skoda Fabia R5 hanno vinto la 29esima edizione del rally del rubinetto organizzato da Pentleton Autosport e New Turbo Mark e disputato tra Cusio e Valsesia sabato e domenica il talentuoso driver che in stagione si è titicato i prestigiosi Targa Florio e rally di Roma Capitale ha anticipato di 11 secondi e 7 Davide Caffoni e Max Minazzi medesima vettura unici a tentare di restare a ruota del vice tricolore per loro due speciali vinte uniche non ad appannaggio dell'equipaggio trionfatore terzi a 39 secondi e 8 Federico Romagnoli e Tullio Tonati con la loro Volkswagen Polo al quarto posto hanno chiuso con un ritardo di 41 secondi e mezzo Simone Peruccio e Federico Capilli precedendo il quinto classificato Mauro Miele navigato da Mirco Pelgantini un rally iniziato sabato con De Tommaso che fa subito la voce grossa prendendosi successo nelle due speciali di giornata ovvero il doppio giro sulla Gianni Piola di 8.2 km speciale disegnata in buona parte sulla strada del Mottarone Caffoni chiude in seconda piazza in entrambi i giri così come è sempre terzo Romagnoli domenica sulla prima colma è ancora il Varesino a vincere Caffoni è secondo ma si sa che il più di vincitore del Valle Ossolane vuole comunque lasciare il segno ed allora eccolo vincere la PS4 città di Borgosesia di 9 km e mezzo con De Tommaso secondo a controllare la seconda colma 8 km e 4 di tratto cronometrato ha visto il leader della classifica riprendersi in successo parziale davanti a Caffoni mentre Romagnoli pian piano stabilizza la sua zona podio la PS6 città di Borgosesia 2 mette al sicuro la leadership di De Tommaso Turati che vincono ancora sempre davanti a Caffoni e Minazzi e nella speciale finale vanno poi di conserva la colma 3 infatti va a Caffoni che comunque sia è stato alquanto competitivo dietro ad un equipaggio da vertici nel campionato italiano rally asfalto lasciandosi precedere anche dal duo Peruccio Capilli Borgosesia dunque celebra De Tommaso Caffoni e Romagnoli insieme ai loro quequipie per una bella edizione del rubinetto alla vigilia del trentennale della corsa Con Daniele Piovera le anticipazioni di Dilettanti per Dire che vi aspetta come sempre il lunedì alle 21 e il martedì alle 13 Appuntamento con di Dilettanti per Dire scopriamo chi sono gli ospiti di questa puntata in onda questa sera alle 21 insieme a noi il Direttore Generale dell'Accademia Borgo Manero prima in classifica in eccellenza Gino Turconi Ciao Gino Ciao Daniele Sei contento? Assolutamente sì Te l'aspettavi? No No Mi aspettavo di fare un buon campionato però di essere lì sinceramente no Lì per rimanerci? Ma lì per far bene per continuare a far bene Ti ho detto guarda giochiamo bene è una squadrettina che dà soddisfazione vanno tutti d'accordo c'è società c'è allenatore c'è direttore sportivo ma anche il pubblico poi sarebbe tutto perfetto Ecco però insomma ci sono tante cose allora per provare a vincere insieme a Gino Gianmaria Racis Jolly difensore dell'Omenia sono Gianmaria Buonasera Anche l'Omenia direi che può essere più che soddisfatta di questo avvio di campionato Sì è un bel momento e siamo contenti sia nello spogliatoio che per quanto riguarda lo staff e speriamo di continuare così e cavalcare questo momento Quest'onda quest'onda allo storero Con Gino e Gianmaria parleremo ovviamente di Accademia e di Omenia ma di tutto il calcio dalla Serie D fino alla promozione non perdete l'appuntamento con direttanti per dire È tutto per questa edizione del nostro giornale grazie per essere stati in nostra compagnia buona continuazione di serata Grazie a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati